e bentornati qui sul canale gioco troppo poco è da un po che non mi faccio sentire lo so lo so voi volete vedere gameplay volete vedere come muoio dark souls testeminate qua io vi faccio un altro vlog che stronzo che sono comunque vi volevo aggiornare un pochino visto che è da tanto che non ci sentiamo e volevo dire guardate che ieri sera mi sono messo di impegno avevo un po di tempo libero e stavo cominciando a montare gli ultimi episodi di lords of the fallen peccato che aperto il mio programma di editing una bella schermata blu blue screen of death che volete farci ragazzi niente non posso più editare video almeno per il momento comunque sono riuscito a dare un'occhiata in giro su qualche forum e sembra che sia dovuto agli ultimi driver della nvidia quindi se avete installato gli ultimi driver della nvidia sappiate che hanno un mare di problemi che bello il nostro mondo che bello comunque fatto sta che questo ritarderà ulteriormente la pubblicazione dei nuovi video appena sarò di nuovo operativo vi farò sapere grazie ciao